È un mese che lei si è insediata qui a Crotone. Nella conferenza stampa è stata molto chiara. Ha fatto un'analisi di quelli che sono i problemi che riguardano la sanità crotonese. Sì, io come in anticipazione dicevo ho voluto prima di incontrarvi fattivamente e concretamente andare sul campo. È chiaro che vivere le esperienze su altri livelli di governo secondo me non è sufficiente. Scendere in campo e scendere in trincea è un'altra situazione. Quindi sì, grande slancio per quanto mi riguarda e certamente andremo a verificare effettivamente quelle che sono le opportunità di agire nel breve periodo. Lei ha confermato il team di questa azienda per quanto riguarda i servizi e i settori. È convinta di aver fatto la giusta scelta? Io sono entrata con l'idea di valutare. La mia fase di valutazione la direi non necessariamente è certamente conclusa oggi però sono certa che ormai ho degli elementi maggiori. È il motivo per cui oggi ho voluto salutarvi con la squadra al completo e vi dico però sono passata e sto passando attraverso una valutazione anche di quelle che sono eventualmente insomma alcune verifiche che ho voluto fare sulla fattività e concretezza del managgimento aziendale. Devo dire che sulla direzione strategica trovo delle persone che evidentemente con un lavoro più forte di squadra potrà dare un forte contributo e ovviamente tutte quelle che saranno poi le successive interazioni e ovviamente riorganizzazioni interne che metteremo in atto. Che cosa ci dice sui percorsi diagnostici? Per quanto riguarda i percorsi diagnostici immediatamente partiremo con le progettazioni verificando l'operatività perché che cosa succede spesso? Che si prendono i modelli che ovviamente esistono, ormai sono codificati, non inventiamo niente e poi però praticamente effettivamente l'operatività non è monitorata. Questa è una priorità così come è priorità monitorare e verificare l'attività perché solo attraverso le evidenze non riusciremo a capire dove effettivamente riusciamo a essere più bravi e eventualmente investire dove invece necessitiamo di rafforzamento. Lei a proposito dell'ASP di Crotone ha detto in conferenza stampa che l'ha trovata ripiegata su se stessa. Perché? Come mai? Sì, diciamo non un'ASP azienda, non un'ASP che conosce e si riconosce a livello complessivo. Diciamo che ognuno ha tentato di fare quello che è l'ambito di proprio riferimento. Ripiegata su se stessa, probabilmente anche non proattiva, dove non si è investito tantissimo, diciamocelo, oppure non si è tentato di guardare oltre. È mancato anche qui un governo forte, forse anche stabile nel tempo, cosa che sono sicura che non accadrà. Grazie a tutti.